Nelle vicinanze della stazione Termini di Roma si è verificato un episodio di violenza dove un tassista ha aggredito verbalmente e fisicamente tre passeggeri. Il motivo della rabbia e del conflitto sembra essere legato al pagamento del servizio con il tassista che sosteneva di dover ricevere ulteriori 10 euro. Un passante ha documentato tutto con un video attraverso il proprio smartphone poi condiviso su Instagram, suscitando indignazione tra gli utenti. Nel video si possono vedere tre turisti, due donne e un uomo, probabilmente di origine asiatica, che erano appena scesi dal taxi con i loro bagagli. La situazione si è intensificata quando il tassista ha cercato di strappare qualcosa dalle mani di una delle due donne. Gli altri due passeggeri hanno cercato di proteggerla, ma la discussione è degenerata rapidamente con il tassista che ha strattonato una delle donne e spinto l'uomo. Successivamente il tassista ha aperto la portiera del taxi per mostrare l'importo sul contachilometri, ma poi i passeggeri stavano per allontanarsi. A questo punto il tassista ha reagito con violenza fisica colpendoli con calci.